Il seme maligno delle sue passioni è cresciuto nel cuore di Salomone e lo ha portato all'idolatria. E abbiamo sentito, dopo la prima lettura, nell'alleluia, questo bel consiglio. «Accogliete con docilità la parola, con docilità, la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza». Facciamo la strada di quella donna cananea, di quella donna pagana, accogliendo la parola di Dio che è stata piantata in noi e che ci porterà alla salvezza. Che la parola di Dio potente ci custodisca in questa strada e non permetta che noi finiamo nella corruzione e questa ci porta all'idolatria.